Una buona notizia giunta ieri in prima serata a conclusione del giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. È durato circa due ore e mezzo l'intervento all'occhio sinistro, al quale è stata sottoposta Jessica Notaro. La 28enne riminese è sfregiata con l'acido il 10 gennaio scorso dall'ex compagno Edson Tavares, che ora si trova in carcere. L'operazione, eseguita dall'equipe guidata da Giuseppe Gaiba, direttore dell'unità operativa di oculistica dell'ospedale di Faenza, è riuscita bene, ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per sapere se Jessica recupererà la vista dall'occhio. La giovane, nelle scorse settimane, è già stata operata due volte al volto per ricostruire la pelle danneggiata dall'acido. Alcuni giorni fa, la 28enne ha postato su Facebook un video in cui, dal letto dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverata, ha ringraziato tutte le persone che le stanno vicino. Intanto vanno avanti le indagini e l'inchiesta sul gesto compiuto dell'ex fidanzato di 29 anni, originario di Capoverde. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe agito per gelosia non accettando la fine del rapporto sentimentale e aveva ricevuto la scorsa estate già un provvedimento di ammonimento del questore di Rimini per comportamenti vessatori nei confronti della donna.